Procediamo con un ulteriore slide, una cosa importante, perché? Perché qui andiamo a dirvi che bisogna essere brevi, bisogna essere immediati, cioè il messaggio non può essere un tema della maturità. La media di attenzione che noi abbiamo misurato guardando le azioni dei potenziali clienti sulle nostre pagine è nell'ordine dei 5-6 secondi, è molto più breve dei 19 o 26 secondi delle pubblicità televisive, è spaventosamente più breve. Ed ecco che bisogna trovare dei modi per raccontare le cose in modo più accattivante. Lo storytelling e quindi il modo con cui scrivo è sicuramente importante, ma abbiamo trovato anche altri elementi, abbiamo sperimentato altri elementi. Il colore, la sensazione che viene dato tramite una fotografia, i video che abbiamo realizzato e che realizziamo, che poi magari vengono messi sul canale YouTube, i cartoons e anche questa tecnica di whiteboard animation che lascio spiegare un attimo a Naki, che ritengo che sia estremamente efficace. Se abbiamo un esempio anche Naki di una cosa che abbiamo fatto, valuta tu insomma. Ma più che l'esempio magari poi magari nella mail di callback facciamo, mettiamo un link. Allora il tutto, sì come dicevi te, viene, noi ci giochiamo fondamentalmente le nostre carte nei primi 5-6 secondi. Ad avvalare questa teoria viene anche Google perché dice il contenuto che un utente cerca su una pagina lo deve trovare nei primi 5-6 secondi. Vuol dire che la risposta alla domanda la deve trovare nelle prime righe della tua pagina, poi piuttosto va avanti e spieghi meglio con degli approfondimenti nel resto della pagina. Ma il tasso di attenzione, ahimè, è davvero diventato minimo. Per questo si è ricorso a delle strategie di comunicazione nuove, appunto dallo storytelling più accattivante, quello fatto anche a puntate. Sicuramente vi sarà capitato di leggere delle cose appuntate, proprio perché ti lasciano un pochettino con il fatto sospeso, no? Di come è finita, come è andata a finire. Oppure abbiamo incominciato ad avviare gli abstract, ovvero dei riassunti delle news, dei riassunti di pochissime righe, dove lì si gioca al tutto. Ti devo dire che se vai avanti a leggere, troverai la risposta, troverai quello che cerchi e sicuramente troverai l'argomento utile. Ancora di più, i social network oggi ti pagano in base al numero, al tempo che un utente passa sopra un post, un video. Quindi in questo caso il tempo è, più che mai il tempo è denaro. Ti giochi veramente tutto e quindi se tu fai, spieghi un concetto difficile, ma lo fai in maniera elementare, come i cartoni animati, non so, qualcuno di voi magari avrà mai sentito nominare il sito, te lo spiego. Loro toccano argomenti molto complicati e anche a tratti molto noiosi, ma lo fanno in maniera molto semplice, con dei disegni animati, dove c'è questa mano che disegna e ti spiega in maniera proprio semplice, concetti molto complicati. Questo perché un pochettino, perché l'utente fondamentalmente è anche bombardato da pagine che dicono la stessa cosa, che fondamentalmente vince quella che te la dice nel minor tempo possibile, nel modo più chiaro. E allora qui appunto vengono, vengono in aiuto tutti questi nuovi strumenti, che sono questo doodle, che sono dei disegni animati, piuttosto che lo storytelling fatto a puntate, utilizzando anche termini molto semplici. Internet sta abolendo totalmente i tecnicismi, la gente vuole, se è vero che Internet richiede un linguaggio molto più informale, lo deve essere sotto tutti gli aspetti, ci si dà del tu e anche mi devi parlare come se ci conoscessimo da una vita, non mi devi riempire, bombardare di tecnicismi che io dopo due secondi mi sono già stancato di leggere. Mi devi spiegare le cose come se fossi il mio miglior amico o come se fossi un bambino di sette anni. Allora sì, fondamentalmente ti do retta, perché è anche difficile riassumere concetti molto importanti in poche parole, e quindi vuol dire che ti do la mia fiducia. Ahimè, io spero che non si scenda al di sotto dei 5-6 secondi, perché sennò non so dove si va a finire, però già 5-6 secondi sono tanti, ma sono anche relativamente pochi. Grazie a tutti.